Amici di Anta, ancora benvenuti nel nostro studio. Abbiamo gli amici del basket, un grandissimo ritorno, Alessandro Roncarolo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. E poi abbiamo un amico di vecchia data, che stendono riconoscevo con gli occhiali, Raul Cardenas. Buongiorno Raul. Buongiorno, grazie. Allora, innanzitutto parliamo di come sta andando, mi stavi dicendo, per andare in onda, tanti problemi per poter fare basket, non diciamo a certi livelli, ma già per poterlo fare. Sì, purtroppo fare sport è sempre più complicato, purtroppo manca l'aiuto anche nelle cose più elementari da parte dell'amministrazione e da parte della politica. Ormai lo sport è diventato volontariato e investire soldi sul sociale. Noi lo facciamo, purtroppo siamo rimasti sempre più soli. Dicevamo che nella provincia di Ascoli a fare un lavoro di settore giovanile di prima squadra a Nas, siamo rimasti solo noi ed Ascoli. Adesso un grosso in bocca al lupo ad Ascoli, c'è il nuovo allenatore con coach Pasquali, spero che torneranno anche a fare anche loro la Serie C, ma per il resto non c'è nient'altro. E per questo motivo noi ci siamo anche ingranditi, è un investimento importante, ma noi quest'anno, grazie a coach Cardenas, siamo anche ad Acquaviva, a Grotta Mare, a Martinsicuro, perché è necessario, perché dobbiamo allargare la base, dobbiamo crescere, sempre più difficile. Purtroppo è così. Allora, sentiamo Raul che giustamente, oltre ad essere coach per quanto era i ragazzi, è ancora un'ottima presenza per quanto era la prima squadra, è ancora giovane. Però ecco, diceva Alessandro che purtroppo rispetto a quando si faceva basket a certi livelli sono cambiate tante cose, sono rimaste le strutture, ma dopo la parte operativa è cambiata. Sì, è vero. Io sono venuto qua nel 2009, quindi magari è la stessa epoca o periodo che parla Alessandro. Il mio, mi ricordo, era diverso, molto diverso da quello che è adesso. Adesso bisogna fare molto di più e i risultati sono sempre di meno. Quindi il progetto c'è, c'è una grande voglia da parte della società, da parte di Alessandro. Però, come ha detto, se noi non abbiamo i piccoli o le basi, gli aiuti, diciamo, che non è chissà quanto uno richiede, è difficile, è veramente difficile. Anche perché uno deve entrare proprio dentro delle famiglie di ognuno e far capire che lo sport è vita. Questa è la prima cosa. Qualsiasi sport sia. Sì, io parlo infatti sempre sport. Dopo io mi dedico al basket e questo il ragazzo, il bambino, deve capirlo. Anche i genitori. Prima i genitori perché in qualche modo bisogna influenzare un'attività sportiva, penso, per il bene dell'essere umano. Esatto, concordo con te pienamente. Ti faccio una domanda prima di tornare ad Alessandro. Come riesci a conciliare il ruolo di giocare e giustamente essere anche coach nel mini basket, dove cerchi di portare avanti questi ragazzi a una realtà che potrebbe essere anche il loro futuro. Sì, una cosa positiva è che i ragazzi mi vengono a vedere. Però, ho detto a Alessandro, divento matto perché la domenica o il sabato che abbiamo la partita in casa bisogna anche portare, fare qualche attività con il mini basket, però non ti puoi concentrare alla partita. Alla fine se fa, però penso io che quest'anno farò 42 anni, Alessandro dice che potrei giocare fino a 60, ma... Ma c'è chi lo fa in altri sport comunque, ti posso garantire che conosco, ancora hanno una loro bella presenza in campo. Sì, alla fine mi sento bene, grazie a Dio, sto bene, però è un grande impegno tutti e due, perché adesso la squadra, facciamo la Serie C, è un bel campionato, stiamo trattando, lottando di salire un pochettino perché ci eravamo un po' caduti le ultime partite, le ultime due le abbiamo vinte, questo sabato giochiamo nuovamente, quindi speriamo che la gente venga al palazzetto, cioè non piace più la pallacanestro, non ci credo questo. No, io posso dirti che ero presente negli anni famosi, quando il basket si è venuto trotto, è arrivato a certissimi livelli, anche a fare spareggi nazionali per andare in A2, però che dire, i tempi cambiano, Alessandro, questo campionato diceva Raul, state cercando insomma di stare sul pezzo, come si vuol dire. Sì, ecco, noi quest'anno abbiamo avuto la possibilità di passare a giocare con il campionato di Abruzzo e Molise, quindi siamo l'unica squadra marchigiana che partecipa al campionato abruzzese, ma ringraziamo anche per la disponibilità il presidente Di Girolamo che ci ha accolto nel suo comitato, è un comitato molto attento alle società e al settore giovanile, sicuramente è un campionato tosto, è un campionato anche alla quale abbiamo avuto la certezza di poter partecipare solo a metà settembre, quindi facendo le cose di fretta spesso si sbaglia, abbiamo rimediato adesso con Coach Tempera, che è un allenatore, una persona eccezionale, e cerchiamo di risalire la classifica. Sabato abbiamo questa partita contro Teramo Basket, che è un potenziale sconto diretto per i play-off, quindi speriamo di avere sempre più pubblico, perché noi alla fine lo sport si fa perché c'è chi viene a vedere, altrimenti non esisterebbero, la palla non va da sola nel canesso, c'è bisogno sempre del tifo. Come diceva Raul, ecco, bisogna riportare le persone simpatizzanti e no al palazzetto, anche perché si sta al caldo, si vede l'ottimo sport e si vede un po' la squadra della città. Allora, San Benedetto è difficile da portare nello sport che non sia il calcio, ma secondo me è tutto conciliabile, certo mancano gli impianti, c'è un palazzetto che è sempre più fatiscente, però finché c'è riempiamolo, insomma. Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo una squadra tutta di bravi ragazzi, abbiamo i nostri giovani, il settore giovanile, insomma è una cosa bella, il sabato pomeriggio alle 18.30 si sta al caldo, venite a tifare per noi, insomma, per i colori rosso-blu. Noi ti facciamo l'in bocca al lupo e ti ringraziamo. Grazie. Sicuramente questa è la prima, ci risentiremo più in là, anche sperando di quando tornerete la prossima volta parlerete, insomma, in maniera un po' più positiva rispetto ad adesso, insomma, un po' pessimisti, però ci sta. No, non siamo pessimisti, insomma, il lavoro è tanto, speriamo magari di ritornare con un posto nei play-off per la Serie B, che sarebbe un bel traguardo quest'anno. Te lo auguriamo, il bocca al lupo anche a Raul, sia da giocatore che da coach, e ti prometto che prima o poi ti verrà a trovare, più che altro per vedere ancora, dicevi, 42 anni, ma ti posso garantire, queste persone che conosco personalmente, parliamo di calcio, ma che ancora, quando c'è la palla al piede, ci sono due o tre persone che lo marcano, e da lì ho detto tutto e hai capito che voglio dire. Mi identifico un po', però sì, vi aspetto, e aspetto che magari questo è l'inizio di entrare o intrallacciare, io penso che la comunicazione è la cosa più importante nell'essere umano, quindi secondo me ancora possiamo fare qualcosa per portare gente a questo palazzetto. Noi ce l'auguriamo, anche perché Alessandro, diciamo, è passato un anno, e questo mi rammarica, però lo invitiamo spesso, anche perché c'è rimasta solo questa di squadra di basket, ci sono tante altre realtà, però cerchiamo di dare una mano al nostro piccolo. Grazie Alessandro, grazie Raul, e l'imbocca l'uomo per tutto. Grazie, grazie, grazie a voi.